Un po' di informazione precisa, puntuale e rapida sul tema dei temi, i soldi, i soldi ai comuni, i soldi alla città di Napoli. Andiamo per schemi, così tutti riusciamo a comprendere. Oggi tutti ammettono, tutti dicono, compreso il potere che fino a qualche mese fa negava, i soldi sono giusti, doverosi e necessari. Senza questi soldi i servizi non possono migliorare, la qualità della vita non può migliorare. Quindi la prima tesi. Quando lottavamo perché dicevamo che il denaro era necessario, doveroso e giusto, che non vi erano colpe dei napoletani, che non vi era colpa dell'amministrazione, erano affermazioni corrette? Sì, è vero o non è vero? È vero. Oggi ammettono tutti, corretto, che i soldi sono giusti, doverosi e necessari. Fino a poco tempo fa, noi, un pezzo di popolo, qualche commentatore, alcuni pensatori, c'era un pezzo di città, di paese che diceva, come mai allora non gli danno i soldi? È vero o non è vero che non davano i soldi perché l'amministrazione era guidata da Luigi De Magistris, sindaco autonomo, fuori dai apparati partitocratici, dal sistema, le cose che sappiamo. È vero o non è vero? Noi dicevamo non ce li danno apposta. Bisogna dire che affidare risorse pubbliche nazionali a De Magistris è diverso che affidarlo a Gaetano Manfredi. Mentre nel primo caso erano sprecate, nel secondo caso sappiamo che arriveranno a buon fine. Si inorridivano a queste affermazioni, molti dicevano l'esa maestà, come fate a dire questo? Oggi confessano. Non è la ex amministrazione più che lo dice, un giornalista libero, il popolo che si interroga. Sono stesso loro che confessano, diversi parlamentari, volutamente dicono, volutamente non abbiamo dato i soldi fino a settembre del 2021 perché sindaco di Napoli era Luigi De Magistris. E allora? Di fronte ormai a una maschera caduta, a una confessione di un delitto morale, politico, istituzionale, l'utilizzo del denaro pubblico come se fosse il proprio denaro, l'utilizzo delle istituzioni per colpire avversari politici e poi alla fine danneggiare il popolo, danneggiare una città, danneggiare una comunità. Quindi ormai la confessione è totale. Qual è l'attenuante, l'ultimo elemento che gli è rimasto? No, lo leggiamo in alcuni dibattiti di un giornalismo un po' approssimativo, o anche in alcuni ambienti politici, è però De Magistris era spigoloso. De Magistris ha un carattere particolare. De Magistris non dialoga. De Magistris si scontra. Luigi De Magistris è stato nelle istituzioni per 30 anni. Ha fatto il magistrato, il parlamentare europeo e il sindaco. Sono uomo delle istituzioni. Poi, come dire, essere liberi, essere autonomi, non sedersi al tavolo del compromesso morale, non inguacchiarsi, non spartirsi il denaro, non mettersi i soldi in tasca, non fare interessi privati, significa essere spigoloso, litigioso, conflittuale? Eh, no, io credo che sono stato votato per quello, per difendere la città e tener lontani quelli che la sono mangiata. Quindi, vedete, io oggi sono felice che i soldi arrivano, sono anche contento che la verità, però, sia venuta fuori, entrambe. Abbiamo fatto confessare il potere. L'ultima menzogna la facciamo cadere adesso. Falso, che noi eravamo affetti dal virus della litigiosità. Noi abbiamo difeso Napoli, quando qualcuno ci ha voluto mettere le mani. L'abbiamo difesa a denti stretti, ma sempre da uomini e donne delle istituzioni, sempre. L'ho dimostrato per tutta la vita. Sono stato all'interno delle istituzioni con lealtà e con correttezza. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Io credo che è venuto il momento che qualcuno si vergogni. Non credo che nessuno mai chiederà scusa. L'importante è che il popolo napoletano sappia che deliberatamente, volutamente, dolosamente, uomini delle istituzioni, dello Stato, non hanno fatto arrivare negli anni scorsi denari a Napoli per colpire, alla fine, la città. Perché il sindaco non viene scelto, come dire, da un cassetto. O non si autonomina. Non stiamo in una monarchia. Il sindaco è stato eletto. E quindi doveva essere rispettata questa volontà popolare. Quindi, se tante cose, purtroppo, non si sono potute fare come avremmo voluto, ci sono dei responsabili morali, politici, istituzionali e giuridici. Oggi noi faremo di tutto da cittadini, da donne e uomini che fanno politica, nel progetto politico nazionale che sto e che stiamo costruendo sempre di più con entusiasmo, passione e impegno, faremo di tutto perché questi soldi non vadano nelle mani di chi già troppe volte si è mangiato a Napoli. Qua ci vorrà una grande vigilanza democratica. Bene i soldi, grande attenzione su come verranno spesi, il re è nudo, la maschera di un potere putrido e intriso del compromesso morale è caduta per sempre. Grazie a tutti.